Eccoci, siamo in diretta e aspettiamo intanto che un po' di gente si collega, tra poco si collegheranno anche gli amici della Croce Verde di Piltello in provincia di Milano. Aspettiamo un attimino che un po' di gente inizia a collegarsi, poi iniziamo, facciamo una doppia diretta, facciamo una doppia diretta insieme alla Croce Verde di Piltello, provincia di Milano e ci racconteranno un po' come stanno vivendo questo momento, questo momento di grossa emergenza. Tanto fateci sapere se sentite e se vedete bene. Lo scopo di questa diretta è quello di collegarci insieme alla Croce Verde di Piltello e farvi conoscere la realtà che stanno vivendo in questo momento di grossa emergenza sanitaria. Ok, scriveteci se sentite bene. Ok, perfetto, grazie, così almeno abbiamo un riscontro. Da dov'è che ci seguite? Scrivete magari da dove ci seguite, così abbiamo anche un po' un'idea della zona geografica e di dove vi trovate. Noi siamo a Milano e vogliamo dare visibilità. Abbiamo contattato, che si sono resi disponibili, la Croce Verde di Piltello perché vogliamo dare visibilità di come stanno vivendo questa grande emergenza sanitaria con i loro mezzi e con i loro volontari. Adesso tra pochi secondi il video si dividerà a metà e saremo online entrambi. Eccoci, siamo online entrambi. Eccoci. Perfetto. Ciao, ciao a tutti. Ok, allora intanto fateci sapere se vedete lo schermo diviso a metà, se sentite me e se sentite Dario. Dario prova a parlare. Ciao, ciao Simone. Ciao. Spostatevi un pochino più in là. Lo schermo è diviso a metà, vedo sia te che loro. Simone è la nostra camera di Stefania che ci dà una mano. Ciao. Ok, perfetto. Allora si vede, ci dicono che si vede, si sente e quindi è perfetto. Ok, allora intanto per chi ci sta seguendo a questo momento siamo in diretta da Milano, noi di SOS Emergenza e la Croce Verde di Piltello che in provincia di Milano. L'intento di questa diretta è quella di farvi capire, farvi raccontare da chi è operativo sul territorio come stanno vivendo questa emergenza sanitaria che sta ricoprendo tutto il nostro paese, quindi capire quali sono le loro paure, quali sono i loro mezzi di disposizione, farvi conoscere un po' questa realtà. Ecco, è una diretta utile sia per gli addetti lavori ma anche per ovviamente la popolazione, quindi i cittadini che hanno la possibilità di fare delle domande in diretta a un equipaggio di soccorso, come potete vedere, e insomma chiedere quello che volete che riusciamo e che possiamo rispondervi. Io lascerei la parola a Dario, appunto della Croce Verde di Piltello. Ciao Dario, allora come state vivendo questa emergenza insomma di abbastanza pesante di questi ultimi giorni? Ciao Simone, innanzitutto saluto tutti quanti e prima di rispondere voglio introdurre Manuel che è il direttore dei servizi della Croce Verde di Piltello, Francesco Nava che è il direttore di situazione e un dipendente di Croce Verde di Piltello e io che sono un volontario della Croce Verde. Per gerarchia e rispetto giro la tua domanda a Manuel che in questo momento, in questi giorni è assolutamente in prima linea e ti lascio raccontare da lui come sta andando questa emergenza in Croce Verde di Piltello. Ok, magari avvicinatevi un po' al telefono perché secondo me si sente un filino basso, è perfetto. Ok, allora noi siamo la Croce Verde di Piltello, una delle 113 associazioni di Anpass Lombardia. Anpass Lombardia che coinvolge tutti insieme circa 18 mila volontari. La Croce Verde di Piltello opera da circa 45 anni e consta di 160 volontari e 12 dipendenti. Due terzi di queste persone sono dedicate all'emergenza urgenza, il resto è dedicato a trasporti privati socio assistenziali. Io sono Manuel, sono il direttore dei servizi di questa associazione. Fino a pochi giorni fa noi davamo a disposizione dell'emergenza urgenza giornalmente due macchine, un H24 7 giorni su 7 e un H6 6 giorni su 7 e poi ogni tanto davamo a disposizione un'altra macchina cosiddetta aggiuntiva. Dal 26 febbraio è cambiato tutto. I trasporti privati e quelli social assistenziali sono stati sospesi. La nostra macchina aggiuntiva è diventata praticamente quasi giornaliera. Per di più abbiamo messo a disposizione anche un'ulteriore macchina insieme ad altre 12 di Anpass Lombardia e insieme ad altre 32 macchine di altre associazioni. Quindi questa emergenza ha portato il sistema del soccorso a mettere a disposizione in totale 45 nuove macchine, di cui una della Cruce Verde Pioltello. Per di più, come sapete, è stato istituito anche un numero verde dalla parte della regione Lombardia. Anpass e anche la nostra Cruce Verde Pioltello ha messo a disposizione circa 20 volontari che hanno fatto i turni giornalieri ogni notturno a rispondere al telefono. Questa è un po' la nostra realtà. Com'è la situazione tra di voi? Immagino che questa è una domanda che più persone ci hanno fatto negli ultimi giorni. Non avete paura, ecco, non avete paura, vi sentite sicuri. Molte domande che sono arrivate erano i soccorsi. I soccorsi, ogni volta che vi arriva una chiamata avete magari la paura di dire potrebbe essere un caso positivo, un caso infetto, quindi come lo gestisco, come faccio a proteggermi. Sono arrivate parecchie domande che chiedevano questo. Allora magari lasciamo rispondere a voi per rassicurare un po' tutte le persone che ci sono delle protezioni che voi avete da utilizzare in questi casi. Sì, allora innanzitutto noi abbiamo dei protocolli che adottiamo ogni qualvolta veniamo a contatto o con un sospetto positivo, o con un paziente positivo o con un paziente che potenzialmente potrebbe essere un sospetto positivo. Per cui abbiamo tutto il nostro protocollo che la nostra centrale operativa ci ha consegnato, l'abbiamo adottato, l'abbiamo fatto nostro e quindi ci proteggiamo. Spesso e volentieri, quasi sempre succede che gli operatori della centrale operativa ci informano che dobbiamo proteggerci prima di arrivare. Questo perché il lavoro della centrale operativa è un lavoro molto impegnativo, molto minuzioso, molto difficile in questi giorni ma allo stesso modo molto efficace. Per cui quasi sempre veniamo avvisati di proteggerci prima di arrivare al domicilio e in casa del paziente. A volte capita che non veniamo avvisati, questo non per un deficit della centrale operativa ma perché a volte purtroppo chi chiama a volte non è chiaro, magari nasconde determinati sintomi quindi l'intervista telefonica non può dare una certezza di quello che poi ci si troverà davanti. Detto questo siamo comunque preparati anche a questa evenienza per cui ogni qualvolta veniamo a presumere che sia un sospetto di rischio di contagio, ci vestiamo, abbandoniamo quella derivazione, ci vestiamo e interveniamo dal paziente in modo assolutamente equipaggiato. Sono dei protocolli che ci permettono di mettere, diciamo, tra virgolette a rischio meno membri possibili dell'equipaggio, per cui sono determinati interventi dove l'equip di soccorso viene divisa, per cui due soccorritori rimangono in ambulanza chiusi nel vano sanitario e un solo soccorritore che è quello vestito va a espletare poi il servizio, il soccorso. Ovviamente se è un servizio alla portata di un solo soccorritore, se invece parliamo di un servizio dove servono più soccorritori, più persone all'interno dell'equipaggio si vestono. Detto questo io non parlerei tantissimo di paura, soprattutto in un momento storico come questo, dove chi fa il nostro lavoro e quando parlo di nostro lavoro è indipendente da chi lo fa come volontario, non è tanto una paura, un pochino di temore, un pochino di ansia, ovviamente c'è, ma questo in qualsiasi persona che verrebbe intervistata oggi sul nostro territorio. ha maggior ragione chi si porta continuamente a contatto e chi rispira più da vicino questa realtà molto molto particolare. Oltretutto io credo che tutti noi il nostro senso di responsabilità è quello che facciamo quotidianamente tutto l'anno, per cui sappiamo benissimo che è adesso il momento in cui dobbiamo stringerci e dobbiamo esserci, non ci possiamo permettere in questo momento di tirarci indietro. Soprattutto in una realtà, come tutte le istituzioni di volontariato, dove gli stessi volontari molte volte non possono purtroppo scendere a fare turno perché devono tutelare delle loro magari figure deboli a casa, quindi magari lo stesso volontario che ha la mamma e il papà già con una salute cagionevole a casa non si possono permettere di portare un interiore problema a casa. Per cui le persone che invece hanno in un qualche modo anche la fortuna, perché si tratta anche di fortuna di poter aiutare in un momento del genere, ci stringiamo con un enorme senso secondo me di responsabilità, cercando appunto di proteggerci e di limitare al minimo quello che sono i rischi. Come spesso succede nei momenti difficili, quando il gioco si fa un pochino difficile, le persone d'associazione tendono a fare rete e questo è quello che stiamo facendo. Io credo sicuramente che non lo credo che è quello che sta succedendo un pochino in tutto il territorio. Certo, grazie. Voi avete delle domande? Voi che ci state guardando avete delle domande da fare all'equipaggio che in questo momento è disponibile a rispondere? Perché spesso avete un sacco di domande, curiosità e ora è il momento buono per farle. Quindi non fate i timidi e scrivete pure se avete qualche domanda. Nel frattempo, che le domande inizieranno ad arrivare... Ok, va bene. Le domande le vedete anche voi, giusto? Avete visto pari le domande? Sì. Vai, allora leggile tu così è più facile. Allora, qui Giambattista Pertulini chiede quanti soccorritori per ambulanza? Ok, allora dipende dal servizio che stiamo facendo, nel senso che come Croce Verde Coltello abbiamo l'H24 che è composta da almeno tre membri dell'equipaggio. Abbiamo l'H6 che è composta da due membri dell'equipaggio, quindi dipende un po' dal tipo di convenzione e del tipo di servizio che si sta facendo. Diciamo che comunque, poi come diceva prima Francesco, quando andiamo sul servizio, chi si approccia al paziente dipende dalla situazione. Con un sospetto positivo Covid si approccia solamente il capo servizio e gli altri stanno a distanza per evitare di essere, come dire, sottoposti al rischio. Situazioni invece più tranquille si può salire tranquillamente in due e l'autista supporta da sotto. Ok, Adelato ci chiedono se dovete sempre sterilizzare il mezzo. Il mezzo viene, allora, oltre le normali sanificazioni che vengono fatte quotidianamente abbiamo notevolmente implementato le sanificazioni ai mezzi di soccorso. Praticamente quasi quotidianamente il mezzo viene sanificato e oltretutto a ogni paziente viene sanificato le parti che sono venute in contatto con il paziente. Per cui se il paziente si mette in barella alla fine dell'intervento viene sanificata con alcool e con i nostri prodotti la barella. Se il paziente si siede sul sedile viene sanificato ovviamente il sedile tutte le parti che tocca il paziente e l'equip di soccorso. In più al termine di ogni intervento viene sanificato il materiale che viene a contatto con il paziente. Questo vuol dire che se rileviamo la pressione arteriosa al paziente lo sfidumanometro con cui dobbiamo rilevare la pressione arteriosa viene sanificato al termine dell'intervento. Così come vengono sanificati tutti i pressivi per cui se interveniamo su un paziente dove in casa portiamo il defibrillatore alla fine dell'intervento viene sanificato anche il defibrillatore. Questo per evitare appunto il trasferimento del contagio sia di materiale presente sulle superfici dell'ambulanza con il soccorritore ed eventualmente con i pazienti successivi. Oltretutto sempre nell'ottica di limitare il rischio anche noi quando trasportiamo un paziente purtroppo perché è sicuramente un aspetto spiaceo del nostro lavoro però purtroppo trasportiamo solo e esclusivamente il paziente senza purtroppo trasportare più il parente. Questo vuol dire che a volte dobbiamo trasportare magari la persona anziana senza la persona vicina che le possa stare accanto ma queste sono misure straordinarie come è straordinario in questo momento e dobbiamo fare così per tutelare assolutamente sia noi che i successivi pazienti e persone che salgono dall'ambulanza. Certo, vabbè questa la rispondo io. Alex ci chiede quali sono i segni eclatanti che devono farci chiamare il 112 e cosa descrivere all'operatore. Beh Alex sicuramente ha tutte quelle situazioni di pericolo, come sai il 112 è il numero unico di emergenza quindi vale per il soccorso sanitario, vigili del fuoco e forze dell'ordine quindi qualsiasi situazione di pericolo che coinvolga uno di questi tre enti ovviamente il numero unico di emergenza può essere utilizzato. Anzi, a tal proposito è cosa buona scaricare l'app Where Are You che permette di essere geolocalizzati. Va bene, avete... Vai, sì, dimmi Dario, dici Dario, sì. Quello che hai detto del numero unico di emergenza facciamo però attenzione che abbiamo a disposizione altri due numeri che sono il 1500 per la Ministero della Salute e il numero verde della Regione Lombardia perché non è che ha il primo sintomo che abbiamo il 112 perché altrimenti intasiamo il numero unico di emergenza per informazioni o per quelle situazioni in cui l'aver emergenza non c'è quindi non è che a un sintomo corrisponde un'emergenza 112 a un sintomo possiamo iniziare a rivolgerci al medico o ai numeri di informazione che sono a disposizione prima del 112. Sì, ecco, la domanda di Alex era una domanda generica mentre nel caso specifico attuale del coronavirus bisogna sempre partire noi parliamo, in questo momento siamo in Regione Lombardia quindi, ma ogni Regione bene o male ha istituito un numero alternativo per così dire ai numeri di emergenza che sia se presente il 112 o se non presente il 118 hanno istituito dei numeri verdi proprio per scaricare le centrali operative dal lavoro altrimenti si crea un altissimo flusso di traffico telefonico che crea una saturazione della centrale e quindi le attesi diventano molto lunghe per chi ha realmente bisogno di emergenza e quindi bisogna partire da contattare questo numero verde e loro ci diranno tutte le indicazioni un'altra cosa importante è non andare al pronto soccorso ecco, non andate al pronto soccorso se avete sintomi correlati a quelli che possono essere quello che può essere un'infezione da coronavirus ecco, non andate al pronto soccorso perché ovviamente se siete infetti dovete essere trattati in un certo modo e non presentarvi lì così da soli questo è importante se vuoi il numero verde è l'800-894-545 per la regione Lombardia perfetto, ok, grazie avete qualche altra domanda? sì, ne sono comparsi un po' io sono molto interessante questa come gestite lo stress e gli altri problemi connessi all'emergenza? allora, parlo da volontario nel senso che parlo dal soccorritore come tutti quanti però Francesco è indipendente la vive tutti i giorni ha sicuramente un carico di stress elevato Manuel è direttore dei servizi altrettanto per quanto riguarda l'organizzazione diciamo che come tutti i soccorritori l'importante è essere attenti ai protocolli sapere cosa fare e non improvvisare se noi stiamo su queste linee guida seguiamo quello che abbiamo imparato sui corsi siamo, come si suol dire in una botte di ferro lo stress e ce lo sappiamo gestire poi come AMPAS abbiamo anche la fortuna di avere una struttura che è il comitato di crisi di AMPAS a Lombardia che ci supporta e eventualmente anche proprio con un servizio di supporto psicologico messo a disposizione per tutti i soccorritori quindi siamo anche da questo punto di vista protetti non dal punto di vista fisico ma dal punto di vista del resto ok ok va bene se avete qualche curiosità se avete qualche domanda sì ok ora ci chiedono che le divise e gli abiti che indossate mentre trasportate un infetto se dovete sterilizzarli o sugli abiti il virus non rimane noi quando ci presentiamo al domicilio per i pazienti sospetti e non scusa di casi confermati o casi sospetti abbiamo comunque delle tute che isolano la nostra divisa dal paziente per cui la nostra divisa non viene a contatto con quella con materiale potenzialmente infetto detto questo le nostre divise vengono c'è la possibilità di lavarle da noi un materiale sanificante proprio per poter garantire sempre di avere una divisa pulita per cui teoricamente la nostra divisa non viene mai a contatto perché siamo appunto protetti e tra la nostra divisa e il paziente abbiamo in questo caso un camice di protezione ok va bene aspettiamo magari ancora un attimino se qualcuno vuol fare le ultime domande poi vi salutiamo nel frattempo volevo dire appunto ve lo chiedere a Dario che in questi momenti di difficoltà insomma anche voi avrete bisogno di presidi avete bisogno insomma di donazioni perché ci chiedono alcune persone ci hanno chiesto sì Cristian poi rispondiamo a Cristian che ci chiede come nasce Croceverde alcune persone ci hanno chiesto se potevano essere d'aiuto magari fisicamente però fisicamente se non si è degli addetti lavori è un po' difficile in un momento così essere operativi però lo si può essere in altro modo ecco se volete un pochettino spiegarci come dietro di noi abbiamo ad esempio la nostra nuova ambulanza la numero 40 è un'ambulanza che abbiamo attivato da pochissimo tempo ha iniziato il suo percorso proprio in questo momento ecco avvicinati magari scusami alla camera così si sente meglio dicevo che ha iniziato il suo percorso proprio in questo momento di crisi quindi fortunatamente abbiamo deliberato l'acquisto proprio senza sapere quello che sarebbe successo ma è andata bene certo in un'associazione come la nostra la vita non è facile non è che navighiamo nell'oro e conseguentemente come abbiamo iniziato una campagna di finanziamento aperto diciamo una campagna di finanziamento speriamo che questo possa dare dei segni concreti perché ovviamente insomma abbiamo bisogno di un aiuto da parte della popolazione da parte delle istituzioni questo ad esempio solo per l'ambulanza poi è chiaro che in questo periodo tutti i prescidi di cui parlava Francesco e Dario c'è un notevole che le mascherine o la tuta chiaro che ogni volta che facciamo un servizio sospetto alla fine vengono messe in un cesto e messe nei potenzialmente infetti quindi è chiaro che tutte cose che insomma hanno un loro costo quindi ci auguriamo ecco che chi ci ascolta ci possa dare una mano se andate sul nostro sito verde più il tello ci sono tutti i riferimenti per poterci aiutare in varie maniere bonifico venendo in sede in tutte le maniere sì Manuel abbiamo anche attivato giusto sabato una raccolta fondi straordinaria su quei siti di raccolta fondi GoFound nello specifico basta che cercate come croce verde più il tello e la raccolta fondi la troverete abbiamo aggiungo come ha detto Manuel un obiettivo molto molto speciale perché questa ambulanza oltre che essere entrata in servizio in questo momento di difficoltà come leggerete per chi ha pazienza di andare sul sito abbiamo anche un sogno purtroppo un mesetto fa abbiamo perso un volontario di 31 anni Paolo in una maniera veramente drammatica e vogliamo veramente con tanto amore provare a dedicargli questa ambulanza che deve essere pagata deve essere ancora pagata le ambulanze costano tantissimo ma veramente tanto parliamo dell'ordine almeno di 70.000 euro per cui noi chiediamo chi vuole in libertà di provare ad aiutarci a realizzare questo sogno andate sul sito andate su GoFound cercateci come croce verde e coltello ogni piccola goccia ci darà la soddisfazione e la speranza di poter dedicare a Paolo questa ambulanza ecco Gio ci chiedevano se scusa ci siamo ci siamo sovrapposti è il bello della diretta allora dicevo che ci chiedevano se faccio una denazione i soldi vanno direttamente alla croce verde di coltello sì sì e tutti non ci sono intermediari quindi sì magari non in questo momento che non si può uscire di casa ma anche in altri momenti potete anche andare lì fisicamente se volete conoscerli lo potete fare ecco poi un'altra domanda veloce ci hanno chiesto se SOS Emergenza fa parte di Areu no non c'entra niente il nostro progetto è condiviso con Areu nel senso che loro sono a conoscenza ci passano dei contenuti ci conoscono bene come noi conosciamo loro potete andare sul nostro sito sosemergenza.org e leggete chi siamo e cosa facciamo ok allora passo la linea dall'altra parte sì che che stanno dicendo ma allora c'è Lorenzo Passarelli che chiede per quanto riguarda le mascherine le informazioni sull'utilizzo lui tra parentesi mette FFP2 FFP3 e quindi vorrà informazioni sull'utilizzo di questo immagino sì l'utilizzo delle mascherine le FFP2 e le FFP3 sono le mascherine che utilizziamo noi quindi servono per proteggere l'utente per proteggere la persona mentre al malato va posizionata la mascherina chirurgica è un errore gravissimo quello di pensare di poter mettere una mascherina FFP2 o FFP3 alla persona che ha febbre pensando che questa possa proteggere poi le persone che ci sono intorno le mascherine FFP2 FFP3 hanno sì una valvola di sicurezza ma è una valvola di sicurezza unidirezionale per cui filtra l'aria in entrata ma non filtra l'aria in uscita per cui io operatore metto la maschera che filtra l'aria in entrata e protegge me ma quando io vado a buttare fuori aria la mia aria viene dispersa nell'ambiente ed è per quello che alla persona con febbre va posizionata la mascherina chirurgica perché filtra quello che invece il paziente butta fuori e a noi è utile mettere la mascherina FFP2 P3 è assolutamente inutile le scene che si vedono quotidianamente in giro di persone che si passano vicine e le persone si mettono la sciarpa sopra il naso credendo che questa protegga l'unica cosa che protegge sono queste maschere P2 e P3 e mantenere questo famoso metro di distanza metro e mezzo di distanza è una cosa fondamentale mi sento di dire tanto esattamente tanto quanto le mascherine è quella di lavarsi le mani se voi riuscite a guardare le nostre mani le nostre mani sono screpolate noi continuiamo a lavarci metterci alcol metterci i disinfettanti e poi metterci la crema per salvaguardare la pelle è fondamentale usare sempre l'abitudine di lavarsi le mani lavarsi le mani vuol dire che prima di mangiare mi devo lavar le mani prima di pulire il cibo devo lavarmi le mani prima di sono in giro fare uno spuntino devo lavarmi le mani e soprattutto devo tenere le mani lontane da bocca naso e occhi tornando un attimino indietro su quello che riguarda le mascherine vanno bene per proteggerci le mascherine FFP2 e FFP3 la P3 è ovviamente una categoria superiore ma la normale mascherina FFP2 va assolutamente bene quindi ricapitolando mascherine uscire di casa il meno possibile un metro un metro e mezzo di distanza e lavarsi le mani tantissimo ok c'è una domanda che io monestamente non so rispondere ci chiedono come mai fino a qualche giorno fa veniva aggiornata il numero degli infetti nel nostro comune però non capisco il nostro comune a quale ti riferisci mentre da qualche giorno non si sa più nulla beh sono database gestionali per quanto riguarda la mia risposta che non che escono dal nostro operato per cui io non so risponderti a quello specifico non so gli amici della Croce Verde di Pioltello se sanno qualcosa in merito direi di no io credo che queste statistiche vengono aggiornate a livello comunale di giorno in giorno è normale che se il comune sta vivendo magari in un certo momento di emergenza può essere che magari questi numeri non vengono comunicati ma generano anche online vengono comunicati a livello regionale e a livello nazionale però ripeto in una situazione di emergenza così ci possa essere qualche disagio e magari anche un ritardo di comunicazione nei dati basta pensare a quello che succede oggi andando in giro si vedono agenti di polizia si vedono carabinieri porti d'ordine si vedono le persone che mettono i nastri ai parchi il lavoro straordinario è tantissimo pensate semplicemente al lavoro che i comuni devono fare per garantire la consegna di farmaci e le consegna degli alimentari di quelle persone che non si possono permettere di uscire quindi a livello sia di associazioni che comunali sono dei carichi di lavoro enorme mi viene da pensare che potrebbe essere che questo crei magari ogni tanto di ritardo è arrivato va bene va bene allora noi speriamo che questa diretta vi sia questa piccola diretta vi sia piaciuta insomma abbiamo voluto coinvolgere chi veramente ha detto i lavori e dargli voce insomma per rispondere a tutte quelle domande che molti di voi da giorni stanno facendo quindi ci sembrava giusto dare voce e dare immagini anche in questo caso a chi è operativo sul campo sul territorio perché è giusto che chi è operativo sul territorio rispondeva e si faceva un attimino o come dire carico in prima persona di fornire queste delucidazioni ragazzi noi vi salutiamo con la speranza insomma che i vostri servizi diminuiranno sempre di più il che vorrà dire che la gente inizierà a stare a star meglio grazie grazie a tutti grazie a tutti quando avete bisogno ci trovate qua ok grazie ancora chiudiamo il collegamento ricordiamo che rimarrà salvata nelle storie la metteremo nella storia in evidenza quindi potrete vederla quando volete a breve la scarichiamo e la troverete su tutti i nostri social quindi la potete vedere quando volete questa diretta la potete anche condividere e andate a visitare il sito internet della Corcevea di Lippi Oltello ciao sempre ciao 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 Grazie a tutti